Vittoria di carattere, di personalità, ci voleva. Adesso prepariamo veramente bene la partita, non dico dell'anno, però la partita di questa fase. Per me dopo 12 anni di sacrifici, poter poi lottare per una Coppa che sta tornando sempre più importante. Tanto, tanto, però. Il Franchi sarà pieno, quando hai 30.000 persone mi auguro anche di più. Daremo il massimo a tutti. Io ho poco dalla tribuna, ma sarò lì, ma vedete che i ragazzi daranno veramente il massimo. Perché vogliamo veramente tutti provare ad andare a Roma.